Due lunghe giornate piene di attività rivolte ad un pubblico eterogeneo martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio la comune di Sant'Anatolia di Narco ha ospitato la 17esima edizione di Primavera in Valnerina un evento sempre molto atteso dalla comunità lieta di accogliere tanti professionisti del giardinaggio sul posto per esporre decine di piante diverse accanto a ceramiche artistiche ed elementi d'arredo per ambienti esterni Qui è sempre un posto magico al ridosso dell'abbazia dei Santi Felice Mauro a Castel San Felice al ridosso del sponto del fiume Nera quindi un ambiente veramente magico con tutti questi fiori quindi parte la Primavera in Valnerina così chiamata questa edizione, la 17esima esplode il verde, esplodono i fiori, esplode la bellezza dell'ambiente in Valnerina Dal corso dedicato alla coltivazione delle orchidee a quello pensato per far conoscere alla pubblico erbe e piante di fiume commestibili davvero tanti gli appuntamenti concentrati in appena due giorni alla di là dell'enorme spazio riservato agli stand Primavera in Valnerina punta sempre su un coinvolgimento continuo dei visitatori soprattutto i più piccoli Accoglie numerosi espositori da tutta Italia abbiamo circa 60 espositori che vengono dal nord Sardegna, Sicilia quindi attraversano l'Italia per venire da noi anche in questi due giorni di mostra il programma è molto ricco di appuntamenti abbiamo tantissime attività per i bambini attività anche per gli adulti di coltivazione di orchidee Kokedama e l'arte giapponese di creare delle composizioni artistiche in più chiaramente ci sono tantissimi momenti legati alla cultura lettura di poesia, reading letterari anche quest'anno Primavera in Valnerina è stata organizzata con il contributo della Galla Valle Umbra e Sibilini un evento in costante crescita per il quale le istituzioni continuano a mostrare una particolare attenzione Grazie